Ok ragazzi sapete che ogni tanto quando ci sono i vari bilanciamenti per quanto riguarda le armi e in particolar modo di fucile a pompa ci faccio dei video Per fare questo video ho aspettato un po' di giorni perché in realtà questo fucile a pompa nuovo lo hanno bilanciato diverse volte Ve ne parlerò meglio nel corso del video ma sappiate che hanno potenziato il nuovo fucile a pompa Quello che spara due colpi che hanno aggiunto durante questa stagione Qui con me come avete visto c'è la mia ragazza Salve E oggi appunto cercherò di farmi tutta la partita con il nuovo fucile a pompa Cercando appunto di utilizzarlo il più possibile e vedere un attimino cosa ci racconta, cosa ci dice Pure io Anche perché fino adesso io non lo stavo praticamente mai utilizzando Ovviamente guardate il video fino alla fine e poi fatemi sapere la vostra sotto con un commento Prima di iniziare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule è davvero fondamentale per supportarmi Quindi mi raccomando controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT Tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade Dovete reinserirlo Grazie però di cuore a chi lo farà Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto Lasciando un bel mi piace Ora vi lascio alla partita Buona visione Ok ragazzi iniziamo a parlare dunque del nuovo fucile a pompa che è stato potenziato non una ma ben due volte Perché non so se lo sapevate ragazzi ma l'hanno potenziato già Ragazzi già due volte sostanzialmente E in tutto cioè per quanto riguarda la mira perché hanno diminuito il rinculo Per quanto riguarda il danno perché hanno aumentato sia il danno base Che per quanto riguarda tutto il discorso del massimo dei danni che un fucile a pompa può fare E tutto questo discorso qui Ora perché stiamo venendo a Boschetto Bisunto? Perché abbiamo visto che c'era un NPC che lo vende Viola O meglio che lo vendeva Viola Bisogna vedere se siamo fortunati anche adesso E lo troviamo Viola ragazzi Lo troviamo Viola Grazie signora NPC è un piacere affari con lei E stiamo attenti amore perché ho visto qualcuno Si è atterrato qua accanto uno Si atterrare proprio qui quindi stiamo Ah vieni amore vieni vieni Eh c'ho le scildine io Eh ah e dammene uno allora Ah lui c'ha anche il bombolone E allora prendiamoci direttamente il bombolone vai si Allora mentre usiamo il bombolone ragazzi No passi Volevo leggermi le statistiche Vediamo se entrerà qui Ah si mi sa che sta facendo il giro Vediamo sta spaccando qui occhio amore Vediamo provo a ittarlo direttamente Eh raga Lo ha ittato pure io Si da così lontano gli abbiamo fatto un bel po' di danno eh C'è qualcuno anche qua eh Si lo puscio lo puscio Anche da lontano solo un colpo Vedete oh adesso è molto più veloce tra un colpo e l'altro Perché ora non mi vorrei sbagliare ma dovrebbero anche Ah c'è gente C'è più di uno anche qui Non mi vorrei sbagliare raga Ma dovrebbero aver potenziato anche Tutto il discorso della rapidità tra due colpi e due colpi Quindi se tu spari i primi due colpi Poi dovrebbe essere un po' più veloce a sparare gli altri Una cosa che velocizzerei Però adesso ricaricandolo Vi dico che no forse va bene così È la velocità di ricarica Allora andiamoci a leggere dunque le statistiche Allora danni 66 che non è male anche se è epico Cadenza di tiro 149 Ovviamente 66 a hit quindi potenzialmente tu ne fai il doppio di 66 Perché sono due Cadenza di tiro 1 e 49 che adesso è buono Anzi forse anche troppo rapido Caricatore 8 Tempo di ricarica 7 e 98 per questo che è epico Calcolate che se si abbassa la rarità Si allunga il tempo di ricarica Quindi per quanto riguarda le altre rarità Dovrebbero essere più lente a ricaricare Mi sembra che quello comune ci mette quasi 10 secondi Che forse lì è un pochino troppo Però vabbè staremo anche lì un attimino a vedere che cosa accadrà Per adesso sembra aver raggiunto un valore decente Diciamo così un valore decente Lo proveremo comunque in questi giorni Per capire anche un attimino come è messo Perché poi ragazzi un'arma si la bilanciano Ma poi col tempo riesce a capire effettivamente Se sia stato bilanciato per bene oppure no A me sinceramente prima faceva alquanto schifo Cioè lo evitavo proprio di brutto Prendevo sempre gli altri fucile a pompa Anche se magari erano di una rarità più bassa Che è successo amore? Io ogni tanto lo usavo all'aggiornamento vecchio già Io mi dissocio assolutamente da quello che sta dicendo Serena Io ogni tanto l'ho usato Fatemi sapere sotto nei commenti Se Serena era l'unica matta ad utilizzarlo anche già prima Vabbè no qualcuno lo utilizzava lo vedevo Magari forse quasi più per curiosità Ah attenzione ho detto dopo il primo aggiornamento Dopo il primo bilanciamento Bilanciamento sì quello Aggiornamento del pump intendevo Vabbè allora sì Allora vabbè sì Perché raga già dal primo l'avano ritoccato un bel po' Però capite bene che se gli hanno fatto due bilanciamenti Per potenziarlo uno dietro l'altro Qualche problema di fondo ci stava ragazzi Cioè qualche problema a livello proprio statistico ci stava Cioè veramente raga era qualcosa di inutilizzabile Comunque ad ora non lo so quanto possa essere comodo Dato che si trova un po' a metà Tra quelli che spammano e il colpo singolo Quindi quello lo striker classico Bisogna anche lì capire un attimino Al posto di quale andare ad utilizzarlo Se preferite giocare con l'uno o con l'altro E quindi potrebbe comunque aver fatica Nel trovare il giusto spazio Nel loot delle persone che giocano Comunque detto questo amore Io direi che ci dobbiamo avvicinare alla safe Anche perché potremmo avvicinarci al mio albero Che attualmente è epico Potremmo lootarlo se non l'hanno già lootato Ovviamente purtroppo Vedo degli alberi sulla sinistra Però vabbè chi se ne frega Chi se ne frega ragazzi Puntiamo direttamente al nostro Così almeno andiamo diretti anche in safe Anche perché vorrei trovare qualcuno da pushare Con cui utilizzare il pump E infatti ragazzi nelle no build Sarà un po' particolare utilizzare il pump Però perché in realtà di solito si utilizzano Armi da lontano nelle no build Però comunque un assalto da mitraglietta Nel dubbio li abbiamo Ovviamente ragazzi nei commenti poi Sbizzarritevi anche voi nel farmi sapere Cosa ne pensate Sia del pre-bilanciamento Che adesso Che stai sparando tu amore? Al lupo L'hai triggerato E poi ha cominciato a pushare me Ma non l'ho toccato io arbitro E gli sei passato vicino L'hai già triggerato Stavo inseguendo te Appena l'ho passata io da lì In seguito a me Va bene gli erodeva ragazzi Al lupo gli erodeva Vabbè gg per lui E comunque dicevo ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Se magari secondo voi Bastava anche solo il primo bilanciamento Se invece servivano Un paio di bilanciamenti Per andarlo un attimino A ripotenziare Perché veramente ragazzi Ribadisco Era una situazione abbastanza Ambigua la sua Comunque amore Ti rubo anche i tuoi difrutti No 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 Che ho le armi bianche Statti fermo Grazie Ti rubo la mitraglietta viola Che in realtà era la tua Va bene Gli altri due frutti Te li lascio Facciamo così Ma sei cattivo Io le armi bianche Mi rubi le cose Ma vergognati Tieni ti lascio quest'altra mitraglietta Tra l'altro potevi togliere le erbacce Che a me non erano dorate Eh infatti lo sto facendo adesso Vabbè tanto non dovrebbe rinascere Scusa adesso le ho tolte È rinato Ah no non del tutto Eh no no è rinato È rinato amore che vuoi Allora Allora Ecco il nuovo pump leggendario Perfetto ragazzi Perfetto Regà io continuo a ribadire Questa meccanica degli alberi No regà non c'ha senso Non c'ha senso Questa meccanica degli alberi Ma guardate anche le cure Che ti lasciano Guardate anche le cure Che ti lasciano regà Ma di che cosa stiamo parlando Cioè io adesso non le prendo Perché ho già tre scildoni e sei scildini E comunque un assalto Me lo voglio tenere Anche la mitraglietta Però veramente ragazzi Sono qualcosa di imbarazzante Sti alberi Ecco ce n'è uno Anche più giù lì Andiamo a vedere un attimino Che cosa ci dà Se ovviamente ancora si può Raccogliere E per il resto Ragazzi siamo ancora a 59 Ma non stiamo vedendo Neanche un avversario A me l'ha segnato una macchina prima Ah E a me no Vabbè E ma Cioè qui hanno lutato l'albero Ma Ah no perché gli altri Gli stanno ricrescendo Quindi forse Ah no perché gli stanno ricrescendo adesso E sono ricresciuti Madonna sono veramente anche Veloci frutti a ricrescere Vabbè di nuovo mitraglietta Vabbè mi prendo questa Che preferisco Raga guardate di nuovo Altri 28 Vabbè non c'ha senso Ribadisco Troppo forti gli alberi Troppo 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 forti Però vabbè Almeno sono divertenti Perché tutti possiamo sfruttarli Non sono neanche così difficili A sfruttare C'è gente qui davanti amore C'è gente qui davanti Corri 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 che sono almeno in due Eh sono davanti pure io Corri che sono almeno in due Ok quello a terra Aspetta aspetta amore Non gli sparare tantissimo Eh vai è craccato Troppo tardi Ok va bene È fatto fuori Mi segna altri passi No Ok Ho fatto doppio colpo amore Col doppio colpo Ho finito sia uno che l'altro Uh pompa dorato Pompa dorato E io mi vado a prendere la corona Che non avevo Regà Ci può stare Ci può stare E mo questo qua regà L'ho visto un po' Poco sveglio Quindi ho detto Boh vabbè Mari me lo faccio lasciare Gli sparo io Dai Mo un po' di danno lo fa Eh sicuramente I pump vanno valutati Un po' meglio con le build Questo è poco ma sicuro L'ho pushata amore Ma Ok Lol Te l'ho rubato tra l'altro Tantissimo Ok Ma io infatti Mi vorrei andare a prendere Il rampino Per sfruttare meglio il pump Vorrei andare a prendere No con le girosfere Loro mi hanno pushata Sì sì no Però dico io Volevo prendere un rampino Per Per pushare meglio Con il pump Ah ci sparano da lontano Mi sa sai Da lì Dalla collina U33 Devo ricaricare le armi però Eh io provo ad avvicinarmi Sempre per il discorso Che vorrei provare ad utilizzare Aspetta Provo a prendere la girosfera Mi prendo al volo la girosfera Tu inizia ad andare Verso i nemici amore Aia Mi ho preso pieno Stanno sparando da dietro No 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 Da sempre dal cestuglio No 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 amore C'è uno qua Come c'è uno lì Che cavolo L'hai ucciso? No Sta scappando Mi sa che è il compagno di quelli Mi sta andando a prendere le schede Ok sta qui Raga 75 65 Così lontano Sicunque era il compagno Ci sta secondo me Come danno Vabbè questo era pure fermo Ragazzi Allora Detto questo Vediamo un attino Quelli lì Che cosa ci raccontano Un altro qua sotto Da dove sono arrivati Tutti questi Scusate Cioè Da dove sono arrivati Esattamente No è one shot Sta scappando con la sfera Eh Valla a prendere Porca miseria Per questo Mi volevo prendere la mia Di girosfera Provo a raggiungerlo E' venuto il lupo Vai lupo Andiamo lupo Andiamo 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 Occhio che però Qua a sinistra Nel cespuglio Ci dovrebbero essere Altri avversari Quelli ci sparavano da prima Allora Questo qui dovremmo capire Dove è andato Semplicemente Vedendo una girosfera Se vediamo una girosfera Raggiando in giro Ah stanno qui Stanno Ok 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 Sta qui sotto Ah no Mi sto sparando qua sotto No 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 È la sentinella Ah mi sparano però Mi sparano Eh è lui È lui Eh ma da dove? Qua Sta a riandare la girosfera Oh mio dio Mi ha devastato Con cosa? Col pump nuovo regà Mi ha fatto tutto sto danno Col pump nuovo? Oh mio dio ragazzi eh Devastante Leggendario pure lui ovviamente Leggendario Quindi ci sta Però regà Mi ha fatto un danno Devastante Cioè veramente devastante Va bene Tra tutti i curi Io mi faccio qualche metro Con la girosfera Sì ok Va bene E beh per me possiamo anche Tenerle Sì sì Era la mia amore Le possiamo anche tenere Per Pensavo ad averta la rubata Sì dai andiamo in safe Andiamo verso la safe Dai No energia esaurita io Eh io quasi No Rip ragazzi Rip Io più che altro Non capisco questi qui Dove siano No ah stanno dall'altra parte Stanno completamente all'altra Ah no passi qui Tripli passi qui amore Dove sei? Qua Vieni qui Sono qua sopra Eh sì Non ci credo Con quale pump? Uno l'ha messo one shot Forse anche un altro Non ci posso credere E uno Fa tutto Eh il problema è che sono ancora due Non so se riesci a scappare E poi a tornare Il problema è che sono in un punto orribile io Eh lo so Io infatti ero riuscito a salire Ma regà ma quanto danno mi ha fatto Ma con quale pump? Eh non lo so se ci riesce amore Ok Ah è sceso l'altro? Mi ha visto Ah no quello l'ha otterrato Ah no Fanno ributtare Eccola Ah ecco l'altro Oh mio dio Io sono finito nell'acqua No 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 pump Scarico Eh sì amore Attenta E io mi sa che non ce la faccio a resistere Ok 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 Corri amore Corri 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 Mamma mia Uh Vent'anni per ricaricarsi Ma poi in realtà pensavo di stare più vicino a me Io per quello poi so salito Vabbè Oddio Comunque regà a me mi ha fatto un sacco di danno Mi sa che col pump Ah ok aspetta Allora mi faccio queste Mi sa che col pump spammone Mi ha Mi ha fatto tutto quel danno regà Cioè quindi anche per quello vi dico Non so fino a che punto può aver senso sto pump Perché lo striker Questo qui Continua comunque a fare più danni Con un colpo singolo Quest'altro invece Continua a far più danni Spammando Mentre questo nuovo Non so dove collocarlo Tra virgolette Cioè perché dovrei scegliere questo Rispetto agli altri due Perché spamma un po' di più dello striker Ma fa un po' più di danno dello spammone Non lo so ragazzi Non mi sembra C'è una macchina là Dove? A dove ho pingato amore Lì Ah sì eccoli lì Non mi sembra una Un compromesso ecco buono Non mi sembra un buon compromesso Amore ma ancora stai lutando tu? Come stai messo a colpi? Eh io ho benissimo di tutto Allora Ah sì ero insieme a prendermi le splash Mi ho lasciato per Allora Ci abbiamo appunto sta gente qui E mi si è alzata la minaccia Eh ok si è alzata di brutto Eccoli qua Allora ok Ho già l'aserato uno Che sta fermo Non ha capito nulla Ok Provo ad avvicinarmi con il nuovo pump Si sono divisi Madonna quanto gli ho tolto Aia Aia Ok Fatto fuori uno Arrivo amore Ok Perfetto Allora Meno male Meno male ragazzi Siamo rimasti Si è buggato Si è buggato il piccone qui Mi faccio Ah ok Va bene E allora Niente Arrivo Ormai uno shieldino me l'ero fatto Ma va bene Ok top Top va bene Allora Siamo due contro uno Contro quest'ultimo Vorrei provare ad utilizzare Al meglio delle mie capacità Questo fucile a pompa E Ma si possono No non le possiamo potenziare a epiche A mitiche Niente Niente va bene Io ci ho provato Volevo questo pesce Dove sarà quest'ultimo nascosto Stiamo attenti anche ai cespugli Perché potrebbe essere nascosto Dentro qualche cespuglio Dentro qualche struttura del genere E non lo so Comunque regà Facendo un resoconto finale Ribadisco Perché dovrei utilizzare sto pump Non lo so Fatemi sapere anche la vostra sotto nei commenti Io probabilmente Adesso l'hanno potenziato Inizierò ad usarlo un po' Ecco si spara di là Però a parità di rarità Continuerò a preferire gli altri pump Probabilmente Cosa spara più che altro? Non lo so Forse qualche animale sta sparando Non credo Non so se Sta dentro quel cespuglio No Non mi sembra Sei dentro quel cespuglio Dove sei amico nostro? Fatti vedere Non ti vogliamo fare nulla A noi Eccolo Sul ponte Sì sul ponte Allora aspetta Intanto deve venire di qua Fuori tempesta Sì Tempesta Eccolo What? Ma gli hai sparato anche tu? Sì credo Ma non credo che abbia dato a me la kill Mi sa che è morto Ma l'ha data a me Ok Però ti avevo detto di non sparare Ah non ti avevo sentito Perdona Sono triste Detto questo ragazzi Fatemi sapere la vostra sotto con un commento Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Mi raccomando ragazzuoli Però ribadisco La cosa fondamentale è farmi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti Per noi è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao